Una signora anziana quasi ottantenne è stata scaraventata a terra da due uomini stranieri di nazionalità diverse che le hanno rubato le due collanine d'oro che portava al collo. L'ennesima rapina, questa volta ai danni di un'anziana, si è verificata nella frazione di Pianola. Sul caso, indaga la squadra mobile della Questura dell'Aquila, diretta da Maurilio Grasso. La donna era appena scesa dall'autobus proveniente dal terminal di Collemaggio, Lorenzo Natali, dove presumibilmente, secondo gli inquirenti della mobile, i due malintenzionati hanno individuato la malcapitata per poi seguirla in autobus. Tanto spavento per la donna che fortunatamente non ha riportato lessioni, spiega il capo della mobile ai microfoni di TV1. Ennesima rapina in città, danno di una signora anziana, quali sono state le modalità? Sì, il 24 giugno c'è stata questa rapina a una signora anziana del 39 che dal terminal di Collemaggio ha preso l'autobus per Pianola e due persone di sesso maschile l'hanno seguita, alla discesa dell'autobus l'hanno rapinata strappando le due collanine dal collo e purtroppo scaraventandole a terra, per fortuna senza conseguenze gravi alla donna. Le indagini sono in corso da parte nostra, la squadra mobile, stiamo cercando di risalire agli autori di questo altro episodio grave. Un tessuto sociale, quello del territorio aquilano, in continua evoluzione sul fronte della criminalità organizzata legata al mercato dello spaccio di sostanze stupefacenti. 27 le ordinanze di custodia cautelare emesse un giorno fa dalla squadra mobile nell'ambito di una maxi-operazione che ha permesso alla Polizia di Stato dell'Aquila di sgominare un'associazione per delinquere dedita al traffico di droga a Luco De Marzi base nella Marsica per lo spaccio di sostanze stupefacenti come cocaina e hashish sul territorio dell'Aquilano. Abbiamo fatto questa operazione antidroga e quindi ha permesso di sgominare una vera e propria associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti non solo nella zona della Marsica ma anche nella provincia aquilana. Queste 27 ordinanze di custodia cautelare che concesse dal GIP il dottor Gargarella su richiesta dal dottor Davide Mancini della procurazione della Repubblica di L'Aquila ci hanno consentito appunto di poter interrompere questo traffico continuo in una zona molto calda della Marsica che come sapete ha avuto già diversi problemi. Quest'operazione oltre appunto a poter interrompere lo smercio di sostanze stupefacenti ha consentito anche di poter entrare nel mondo della clandestinità dei marocchini a luco dei Marsi e quindi siamo riusciti comunque a portare in questura quindi anche al commissariato dove abbiamo operato insieme ai colleghi del commissariato e al dirigente dottor Nicolai abbiamo portato circa 30 stranieri. Oltre ai reati nella pubblica amministrazione, al patrimonio, predatori e strettamente collegati alla ricostruzione ha rilevato Grasso, sono in aumento i reati contro la persona. Sono in aumento i reati di stalking, sono in aumento i reati di molestie, sono quindi in aumento anche i reati legati però agli stranieri. abbiamo un aumento veramente crescente dei reati legati alla pubblica amministrazione e che hanno anche dei risvolti di politici e quelli sono molto seguiti anche dalla procura. Grazie a tutti.